Dal 2017 Restyling Car di Gennaro Vitale ti assicuro un servizio di alto livello con personale qualificato all'insegna della qualità e della rapidità al giusto prezzo. Si è tenuta sabato scorso, presso l'Aula di Udienza del Tribunale di Salerno, la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 della sezione di Salerno del Tar Campania. Durante l'anno appena trascorso si è assistito a un aumento del 15,5% di ricorsi depositati, con un totale di 1981. A renderlo noto è stato Leonardo Pasanisi, presidente della sezione di Salerno del Tar Campania, che nel corso del suo intervento ha evidenziato l'aumento dei casi da trattare, superati anche i livelli pre-Covid. Si tratta per lo più di ricorsi in materia di urbanistica edilizia, seguiti dai ricorsi in materia di esecuzione del giudicato e in materia di appalti. Nonostante il numero di ricorsi in aumento, al Tar di Salerno le pendenze totali sono diminuite, con una riduzione del 22,30%. Tale risultato colloca la sezione staccata di Salerno al quarto posto in Italia, nella speciale classifica dei tribunali amministrativi, concernente l'abbattimento dell'arretrato nonostante una carenza di magistrati. La giustizia amministrativa è andata avanti nel 2020 e anche nel 2021 veramente con grande lena, con grande impegno, con grande efficacia. Il ruolo del giudice amministrativo è stato determinante e soprattutto anche qui a Salerno in modo particolare. Noi abbiamo il processo amministrativo telematico puro e questo ci ha consentito di andare avanti con grande efficacia, con grande efficienza e con, diciamo, apprestando, offrendo tutela appunto ai cittadini, alle amministrazioni, agli operatori economici in quanto il processo con questo sistema di cui gode la giustizia amministrativa in realtà non si è mai fermato, non ha mai subito i rallentamenti per esempio di altre tutele giurisdizionali. Il contenzioso nel 2021 è aumentato rispetto al 2020. Il 2020 era l'anno proprio della crisi, della pandemia, quindi c'è stato sicuramente un rallentamento. Nel 2021 invece c'è stata una forte ripresa, più o meno il numero di ricorsi è aumentato di circa il 15% di ricorsi nuovi depositati nell'anno e quindi siamo arrivati quasi a 2.000 ricorsi nuovi. Però siamo riusciti, e questa è la cosa veramente importante, siamo riusciti a far fronte quindi non soltanto a questi ricorsi nuovi depositati nell'anno 2021, ma anche alle pendenze esistenti a Salerno e quindi abbiamo ottenuto un abbattimento dell'arretrato, quindi delle cause complessive pendenti presso il Tar Salerno, del 22,3%. La media nazionale di abbattimento dell'arretrato si ferma all'8,5%, quindi Salerno ha fatto tre volte di più della media nazionale e questo ci fa ben sperare per il futuro, quindi per questo anno e per i prossimi, in cui noi abbiamo anche degli obiettivi particolari da realizzare che sono quelli che ci sono posti dal PNRR e dalla normativa che ne è conseguita, cioè vale a dire l'abbattimento dell'arretrato pendente al 31 dicembre 2019 nella misura del 25% entro il primo semestre del 2024 e nella misura del 70% entro il primo semestre del 2026.